direi di partire siamo in perfetto orario allora buonasera a tutti direi che ormai iniziate un po a conoscere l'iniziativa dei dev talks sono nati quasi per caso per far fronte un attimo all'esigenza di tenere noi sviluppatori occupati in un periodo un po problematico tra l'altro seppur apparteniamo a una fascia di lavoratori che in questo momento si può ritenere molto fortunata stiamo un attimo organizzando il tutto potrete trovare sul sito di italian coders una piattaforma dedicata ai dev talks all'indirizzo italian coders punto it slash dev talks dove trovate tutti i talks già effettuati e quelli futuri e ovviamente potete diciamo seguirci su youtube su sul canale di italian coders o sulla pagina facebook oppure su sulla pagina gruppo facebook di need for ned adesso vi lascio al talk dedicato a stencil di antonio gallo esperto in applicazioni mobile pwa e web app te la parola ti lascio ciao a tutti e benvenuti ci siamo visti la settimana scorsa per parlare di lavoro da remoto per chi non c'era magari faccio un breve riepilogo io sono un freelancer lavoro già da casa quindi diciamo che sono già abituato al virus in qualche modo e mi occupo di di varie cose front end back end server database un po di tutto perché comunque sono molto molti anni lo vedete da i capelli bianchi e che che mi occupo di informatica ho iniziato da piccolo con più del commodore e negli ultimi anni mi sono un po dedicato maggiormente a quello che viene definito front end quindi a realizzare applicazioni in javascript principalmente applicazioni b2b mobile quindi siamo partiti con ionic 0.9 ed angular 1 e poi pian piano ho seguito tutta l'evoluzione di ionic fino a oggi ionic diciamo un framework insieme di ui e utility riga di comando che vi consentono di creare dell'applicazione mobile ibride e cosa hanno fatto questi qua di ionic visto che i affari vanno bene hanno preso un po di soldi hanno rivoluzionato un po il loro prodotto non è più un tool che si usa soltanto con angular ma hanno sviluppato un compilatore che permette di creare web components e quindi hanno reso poi la loro libreria ionic disponibile oltre che per angular per react e qualsiasi altro sistema javascript infatti oggi magari vi porto anche un esempio di un'applicazione pwa fatta interamente costensi quindi in vaniglia diciamo in vaniglia javascript i web components secondo me sono la chiave di volta un po di quello che sta succedendo nel mondo javascript perché questi framework secondo me creano frammentazione ci sono le varie tifoserie angular react web più prossimo framework che viene fuori non so magari svelte o altre cose di questo tipo e secondo me web components sono un po la risposta a questa babella di framework perché un component può essere riutilizzato e quindi la parola che io adoro è utilizzare perché sendo un freelance più riutilizzo più ottimizzo quella che la mia attività esistono oggi visto un articolo in cui si mettono a confronto almeno 30 tool diversi per generare web components potete farveli chiaramente anche in vaniglia javascript però anche in vaniglia poi sono un po scomodi vi serve comunque una piccola libreria di template tipo lit html e altre due o tre che ci sono e chiaramente usando stencil si ha accesso diretto a ionic e quindi il vantaggio di partire già con una libreria di componenti già sviluppata e quindi stencil cos'è facciamo prima un attimo una panoramica prima di andare a vedere le applicazioni e riprendo un attimo delle slide di un mio talk che ho fatto a milano di cui si poteva andare in giro in cui ho riassunto come da ionic 4 poi si è arrivati tramite stencil a creare tutto in web components i web components quindi sono una specifica una serie di anzi una serie di specifiche e quindi standardizzate la cui principale chiaramente si chiama custom elements c'è la possibilità di creare dei tag html personalizzati quindi questa è quella fondamentale infatti in applicazione l'applicazione si può creare come un unico web component mettendo un tag mia trattino app e quella verrà chiamerà una vostra classe e potrà può anche essere un'intera applicazione poi costituita da altri componenti e poi sono altre tre specifiche shot of dom marketing ma l'impost attenti ma le templates che alla fine racchiudono tutto il discorso di che cos'è un web components quindi web components è supportato da principalmente da tutti i browser poi per le versioni vecchie di internet explorer 11 e qualche versione vecchia di edge c'è bisogno di dei polyfill però il vantaggio di usare il punto stencil è quello che una volta che create una vostra componente una nostra libera di componente lui fa un build e la build la realizza in maniera tale che può essere utilizzata anche su su diversi tipi di di browser anche quelli che necessitano del polyfill e quindi questo giusto ripasso per dirvi che il web component può essere realizzato anche in maniera javascript quindi estendendo la classe html e chiamando customer and defined e oppure estensi che quindi vi ricordo che è un compilatore non è un framework però alla fine poi vi faccio vedere che io l'ho usato come se fosse un framework in alternativa ad angola e react e ha delle caratteristiche veramente per per farvi per stringere diciamo questa parte vi direi che mette insieme faccio banalizzo e prende insieme pezzi di angolo e pezzi di react e li fonde insieme e crea un suo modo di poter lavorare è passato completamente su si lavora in type script di stanza e quindi di default tutti i file sono tss a il jsx come c'è la react usa il virtual dom la sync rendering c'è reactive data banning così via il lazy loading lo fa di default quindi i componenti sono automaticamente caricati in lazy load quindi non bisogna fare cose particolari come invece tocca fare per esempio in angle e in react e poi anche qui c'è la possibilità di usare i vari state management come redax ha un suo router e poi c'è una libreria di tannet che si chiama stanne stanne che è in pratica un po tipo l'api context di react e supporta nativamente anche la generazione della documentazione del del progetto è questa cosa interesse che ho trovato interessante anche se poi come per i test c'è problema sempre che non c'è mai il tempo per farla e la cosa fondamentale secondo me per cui io ci vedo interesse è che oltre a creare dei web components ha la possibilità di fare pre rendering e quindi generare siti statici a meno di una certa semplicità supporta automaticamente il service work di default quindi non c'è da fare granché e quindi è molto facile iniziare a fare pua e c'è anche la parte di server side rendering che in qualche modo l'idratazione è usata nel pre rendering però nella documentazione ufficiale purtroppo non c'è molto ancora di queste cose qui quindi se volete fare un server node che usa stensi per fare server side rendering in questo momento documentazione in giro io non l'ho trovata quindi questo caso d'uso al momento io mi sento di sconsigliarlo e se volete anche voi partire utilizzare stensi molto semplice non c'è neanche bisogno di installarlo globalmente fate npm init stensi andate nella directory del progetto rispondendo alle domande poi andate nella directory del progetto e fate npm install installare i node modules e poi npm start per chiaramente per per far aprire il browser con il refresh automatico su per poter lavorare sul progetto in uso e come vi ho detto mette insieme alcune cose concetti che abbiamo in angular react per esempio adesso capriamo il sorgente vi faccio vedere però vi annuncio che per esempio per creare un componente come presenta sintassi molto simile a quella di angular per cui c'è un decoratore component per dichiarare il componente e poi c'è un decoratore per creare proprietà eventi e altre cose però a differenza di un componente angular non c'è un template un file html esterno ma c'è una funzione di render esattamente come il react in cui si usa jsx e ci sono degli eventi che sono mappabili delle callback che sono mappabili a quello che invece abbiamo il react e qui una piccola critica perché a tanto punto se lo devi scopiazzare almeno usa i stessi nomi così noi non ci confondiamo infatti ogni tanto io scrivo sempre component 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 load poi vado a vedere gli stessi non mi funziona perché perché ho usato il nome che si usa in react invece che la controparte da utilizzare gli stessi e quindi anche il life cycle è molto molto simile c'è component load poi c'è render poi c'è component load a differenza di react diciamo invece di cambiare lo state si cambia una variabile decorata con state oppure si può fare il watch direttamente di una variabile diciamo decorando una variabile con watch ogni volta che quella variabile cambia e se aggiornò lo stato oppure stessa cosa dichiarandola con state o in alcuni casi anche con props poi c'è un altro decoratore che si chiama method che serve per rendere una funzione una funzione del già un metodo della classe del componente richiamabile dall'esterno e questo magari se fate un componente form il metodo reset lo esportate verso l'esterno e poter resettarlo in in maniera molto semplice mette a disposizione degli slot che servono per lo shadow DOM e quindi potete creare i vari punti di ancoraggio all'interno di un componente per esempio per definire definite delle proprietà titolo sottotitolo e testo e poi fate tre slot in maniera tale da far comparire questi i valori dichiarati in questi attributi in diverse parti per esempio di una card che può essere una card descrittiva oggi c'è anche un'altra proprietà e un altro slot per il prezzo per fare un e-commerce e infine è molto semplice usando decoratore event educatore listen e creare e mettere e gestire gli eventi quindi event può essere usato per emettere un evento che poi ascoltato dall'esterno e listen può ascoltare sia eventi di distanze dello stesso componente per esempio in un accordion con un semplice listen ascoltate quando c'è un quando un componente si espande per stringere tutti gli altri aperti oppure può essere usato per ascoltare anche eventi di sistema e magari vi faccio vedere un esempio di un componente non visuale che ho utilizzato per gestire l'altezza dello schermo sui dispositivi iOS e questa è un po' la rinfrescata di quello che ho detto nell'evento sui web components a Milano e adesso interrompo un attimo la condivisione delle slide e vi condivido un po' il codice quindi se avete delle domande fatele pure io un attimo che avvio la condivisione dell'altro schermo ecco stavo vedendo io semmai di chiedere così al volo te la faccio io una domanda quali vantaggi hai avuto nel momento in cui hai iniziato ad adottare i nostensi proprio in termini di qualità, di sviluppo, tempistiche? allora il mio punto principale era perché ho dei progetti sia in Angular che in React e quindi diciamo il fatto di sviluppare in Stencil applicazioni diciamo sempre rivolto a applicazioni ibride quindi che un'applicazione può finire su telefonino oppure può essere OPWA quindi su tutti e due i casi il fatto di fare web components in Stencil poi automaticamente mi consente che quel pezzettino lì ci ho in tutti e due i framework quindi questo era un po' fondamentale perché fino a ieri c'era una libreria base JavaScript che faceva alcune cose e poi dovevo farmi della libreria doc sviluppo web Angular e sviluppo web React perché chiaramente se avevo dei componenti grafici non erano riutilizzabili in tutti e due i sistemi quindi adesso facendo l'Instencil per esempio se voglio farmi un plugin che fa il QR code e mi ritorna direttamente il QR code però comunque ho un'interfaccia grafica e lo faccio come un unico web component lo chiamo QR code trattino scanner lo butto nella pagina e ce lo posso utilizzare sia in Angular che in React questo è il primo caso che sicuramente ho fatto e ti dico anche come semplicemente un'applicazione di rivelazione presenza quindi vai su sito web, ti registri all'evento come i classici Eventbrite questi qui ti stampi un QR code o comunque le immagini sul telefonino arrivi in fiera e ti scannerizzo nel QR code e quindi questa situazione qui l'ho fatta sia per applicazione mobile e anche per PWA perché c'è una libreria sono librerie per catturare l'immagine e scannerizzare un QR code anche per il browser quindi non è necessario proprio fare un'applicazione nativa per scannerizzare un QR code oggi quindi questo è proprio un esempio sul campo che ho già applicato di queste cose qui perché avevo un'applicazione fatta in Ionic 3 quindi Angular 5 in produzione quindi quella sta andando avanti poi lo stesso cliente per un altro brand mi ha chiesto un'altra applicazione e l'ho sviluppata siccome erano passati due anni l'ho sviluppata in React con Framework 7 neanche Ionic quindi a un certo punto mi hanno chiesto di aggiungere tutti e due il QR code la scannerizzazione del QR code e ho un panico perché devo fare doppio lavoro ho detto proviamo a fare sta cosa e devo dire che è andata bene perché adesso ho il mio componente QR code scanner che lo infilo dove voglio cioè anche in un sito Wordpress metto il tag QR code scanner poi aggiungo il javascript per gestire l'evento che mi ritorna il valore letto ok assolutamente iniziamo ad avere una domanda se mai vuoi continuare e poi le lasciamo per la fine? ma no no se sono su web components riesco a rispondere ora prima che andiamo sugli altri due argomenti te la leggo può essere una buona idea implementarsi i widget essenziali di una web app con stencil input number e là si è perso chiedo scusa questo streaming hard è molto bello ma se sbagli a cliccare ti butta fuori è tremendo sì però è ottimo eravamo rimasti alla domanda allora può essere una buona idea implementarsi i widget essenziali di una web app con stencil input number input string grid eccetera in questo modo riutilizzi la libreria sia in Angular che React? beh allora se c'hai dei componenti di input particolari direi di sì quelli standard con l'attributo type ormai tutti i browser dovrebbero i browser principali dovrebbero già adattarsi in maniera adeguata sia mobile che web a questo posso pensare magari se c'è un è un tipo particolare di formato non so codice fiscale che magari ti fa butti dentro la validazione del codice fiscale in qualche modo sì potrebbe avere assolutamente senso però poi hai il problema che questi componenti una volta che tu hai fatto un web component è attivato lo Shadow DOM dentro non ci puoi andare a mettere le mani col CSS occhio infatti il casino grosso di Ionic che l'ultima versione sia la 4 ma soprattutto la 5 la 5 tutti i componenti hanno Shadow DOM è chiaramente pesante customizzarli perché li devi andare a customizzare andando a cambiare tutta una serie di variabili CSS3 quindi CSS3 sono quelle lì meno meno Ionic meno text background cambiare tutte per personalizzare l'applicazione cioè diventa un lavoro lungo prima con CSS si faceva in maniera molto più semplice quindi bisogna anche fare quando si sviluppa componenti grafici io non sono un esperto di UI UX lo dico però bisogna fare attenzione al grado di personalizzazione di cui poi hai bisogno quindi se tu il web component incastra un input dentro un web component poi non puoi andare più con CSS a gestire i bordi i colori e lo sfondo di quella input la devi in qualche modo nel CSS prevedere tutta una serie di variabili per poterla personalizzare però c'è anche un'altra opzione nella dichiarazione del componente shadow DOM lo metti a false e e quindi puoi andare in CSS a a personalizzare il tutto e quindi questa è una scelta che devi fare a priori quando tu decidi di farti una tua libreria di componenti se attivare o meno shadow DOM quindi questo se dai un'occhiata a come sono fatti i componenti di Ionic 5 te ne accorgi subito ok c'è questa piccola parentesi ora c'è Conte sul 5 che mi ha fatto ridere però vabbè ve la vedrete dopo allora poi abbiamo altre domande non so se se ti lascio o se procedi se procediamo quella di Giacomo per Angular React vero per quanto tempo si impiega a prendere confidenza nello schermo di componenti Stencil beh direi allora per Angular è una giornata per React è mezza giornata perché se sai già GSX è quasi trasparente anzi diventa molto più semplice devi soltanto imparare che ho event e listener come usarli e volendo cioè lì puoi anche fare usarli i tuoi componenti in generale puoi anche usare per fare un'applicazione se vuoi evitare uno stat management i tuoi componenti possono generare degli eventi globali che l'applicazione da qualche parte ascolta e lo usi in maniera impropria però tipo Redux quindi anche senza uno stat management però per fare cose più complesse usi Redux io sto provando MobX anche se non è ufficialmente supportato oppure strutturi l'applicazione come ci insegnano tutti i vari guru che fanno i corsi cioè tutti i vari componenti incastrati nel modo giusto poi mi fa una domanda su QR code qui ce ne sono diverse di librerie mi chiedono quale librerie Paolo ce ne sono diverse poi magari ti do il link oppure vai sul mio profilo sulla mia pagina facebook ti scrolla un po' i post e c'è qualche mese fa lo trovi il link alla libreria poi c'è domanda successiva allora i prerequisiti se tu conosci già React o Angular sei a cavallo perché il passaggio è banalissimo cioè se sei bravo su uno di questi due linguaggi ci metti mezza giornata o una giornata non di più cioè è il tempo di smanettarci un po' se invece non conosci bene queste cose e chiaramente tutto TypeScript devi studiarti TypeScript quindi classi decoratori insomma tutto quello che si usa di solito oggi nella programmazione moderna poi Massimo De Simone mi chiede se ci sono offerte di lavoro per stencil sì quelle di Ionic cercano persone su stencil perché hanno preso degli altri soldi e si stanno ingrandendo ancora di più in Italia non saprei dirti questa è una cosa che è uscita l'anno scorso io mi ci sono buttato da poco perché conoscendo Ionic sono un po' scettico su era un po' scettico all'inizio poi facendo questi progettini che vi faccio vedere oggi ho preso coraggio e ho deciso di diciamo di investirci investire non tanto in stencil quanto in web components che oggi li faccio con stencil ma domani magari me lo faccio con vaniglia o con altri sistemi e quindi diciamo a momento offerte di lavoro no però se tu sei in un team grande che utilizza Angular React o Vue in maniera massiccia utilizzare web components poi ti ripeto ci sono almeno 30 altri tool per farli per condividere codice tra tre progetti fatti con tre forme di web secondo me sembra una mossa intelligente da fare ok mi rivolgo Fabio il mio soccorso ok grazie Fabio va bene vediamo se riesco a condividere lo schermo senza chiudere la live allora 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 prima di decidere di affidarmi completamente a stencil o comunque di sposare la causa web components l'estate scorsa ferragosto che chiaramente che fa il programmatore a ferragosto c'è il suo sito web morto distrutto da secoli disadattato in html con tag marquis e pensa bene che per agosto è l'unica chance che il programmatore ha di mettere mano al suo sito web personale perché poi il resto dell'anno il tempo non c'è quindi l'anno scorso ad agosto mi sono dedicato a rifare il mio sito web antoniogallo.it che già l'avevo fatto con next.js quindi react e service side rendering per testare quella tecnologia e abbiamo testato react e adesso proviamo a farlo con stencil quindi una prima cosa che si può fare con stencil oltre a creare web components è a creare dei siti statici tramite la funzione di pre-rendering per fare pre-rendering è molto semplice voi vi create un vostro progettino quindi questo è il package son che viene fuori e nella build semplicemente dovete andare aggiungere chiaramente il flag di produzione e poi il flag per fare il pre-rendering quindi una volta fatto questo lanciate npm run build o yarn build e lui poi nella directory www vi crea il progetto pre-renderizzato pre-renderizzato che significa che lui crea un file tutti i file html quindi io per esempio c'ho il file index html la pagina grazie quindi slash grazie quindi sarebbe la directory grazie che ho dentro il suo index html già in html statico che il chiaramente seo friendly quindi google passa trova normale html e vi indicizza anche il contenuto chiaramente generato via javascript quando andate aprire quella url con il browser il browser visualizzerà la pagina pre-renderizzata e poi c'è il processo di idratazione cioè è vero che parte di nuovo l'applicativo realizzato con stencil tutti i sorgenti distensi sono nella directory src c'è l'index html che quando sviluppate una libreria di componenti può essere utilizzato per fare dei test ma invece quando sviluppate un sito web diventa effettivamente il vostro index html quindi nel mio caso metto tutta una serie di tag metatag che poi verranno sostituiti con i valori effettivi pagina per pagina tutta una serie di settaggi standard il codice per google font google analytics e altri altri funzionamenti diciamo tag che servono per il SEO questo è il tag dell'elemento del componente principale app root il nome è quello di default e questo è il componente che conterrà il router e renderizzerà le varie pagine i componenti sono tutti nella directory components e bisogna fare una directory per componente possono essere modificate questo non lo sapevo perché non c'era ancora questi discorsi di best practice e quindi all'inizio ho fatto il classico mappazzone dello smanettamento mi sono messo una giornata e ho fatto tutto questo qui quindi non sapevo che bisognava dividerli per directory poi me ne sono accorto dopo che se non lo fai hai qualche problemino su come lui gestisce l'oggetto dis però questo è un caso molto complesso da spiegarvi il componente principale è fatto in questo modo c'è il decoratore che ho c'è la component poi c'è l'attributo tag che viene specificato il nome del tag quindi deve essere un nome con il trattino almeno un trattino ma questo componente può essere un CSS o un SCSS quindi io l'ho commentato e poi se è un componente ui di solito c'è lo shadow abilitato siccome questo è il componente root lo shadow è disabilitato in questo caso vedete c'è la funzione di render e questo è quello che mi renderizza la pagina la mia pagina è costituita da un componente non visivo questo qui poi ve lo spiego una testata che è fissa su tutte le pagine la parte centrale con il componente con il contenuto della pagina e poi un footer che è sempre lo stesso quindi ho praticamente utilizzato i componenti come se fossero per chi viene da back end o chi mastica back end ho usato i componenti in questo caso come se fossero dei template e poi c'è il router e in base all'url viene caricata una pagina diversa e io su questo sito ho semplicemente tre pagine ne avevo di più poi adesso le ho tagliate perché ho fatto un'unica landing page sulla home e poi ho due pagine una con i credits e una con i ringraziamenti per chi si iscrive ad una newsletter quindi questo è un componente molto semplice perché uproot semplicemente ha la funzione di render quindi un componente che renderizza altri componenti non ha proprietà non ha eventi non gestisce nient'altro vaniglia vh che io ho utilizzato all'inizio qui è un altro componente che io ho utilizzato semplicemente per fare in modo che l'altezza dello schermo risulti sempre congrua quando si utilizzano i dispositivi Apple perché c'è un problema che l'altezza in questi device risulta tagliata dalla parra che sta sullo spawn sulla parte bassa di Safari quindi bisogna calcolare quella riduzione e applicarla al CSS quindi è un mezzo casino come si fa? come si fa? nel componente contenitore che vi interessa c'è la proprietà 8 e il trucco qual è? che di default è 100 vh quindi altezza piena dello schermo e se non è definita la variabile CSS3 vaniglia trattino ph quindi questo componente che fa? quando viene renderizzato calcola l'altezza della finestra quindi un component will load e quando ci sono degli eventi che cambiano la dimensione dello schermo chiama la funzione aggiorna vh che calcola questa altezza e non fa semplicemente che settare nel CSS globale questa proprietà quindi questo qui che non colpo solo aggiorna tutto il CSS dell'applicazione ecco questo è un componente non visuale non ha la funzione render però comunque si mette in ascolto di due eventi quindi i due eventi che ascolta tramite l'ISTEM sono il cambio di orientazione quindi landscape portrait e il resize dalla finestra quindi questo non l'ho testato in maniera molto approfondita però almeno nei pochi test che ho fatto funziona funziona egregiamente però ve l'ho fatto vedere come esempio come invece è fatta una pagina la pagina per esempio la pagina grazie richiama il componente page grazie che è fatto in questo modo qui c'è sempre il decoratore che ho c'è la component il tag page grazie anche qui non ho attivato style sheet shadow dome perché non mi interessava una pagina ma nel component we load io mi sono creato una piccola utility che ho chiamato stancy lead che vado a impostare gli attributi nei tag metatag quindi imposta il linguaggio del tag html il titolo della pagina la description per il seo e il tag robots e per esempio in questo caso qui la pagina non la faccio indicizzare però comunque se qualcuno la va a condividere su social o altre cose gli passo anche la url dell'immagine che voglio che compaia quindi questo qua è un po' la stessa cosa che in react fa credo la libreria che se non mi sbaglio correggetemi helmet e giù di lì e la pagina è semplicemente chiaramente siccome la testata il footer sono fissi tutte le pagine la pagina questo componente pagina conterà solo la parte centrale quindi definita con attributo article e dentro c'è semplicemente html normale fatta eccezione per il link che invece di usare un normale link href a href si utilizza un componente di stencil chiamato stencil root link e questo consente di fare in modo che quando tu clicchi una pagina clicchi questo link invece di ricaricare il browser la transizione viene effettuata come fosse un'app quindi viene se c'è la transizione all'interno del router invece che scusate c'è la transizione all'interno del router dell'applicazione javascript invece che nel browser un po' più complessa tornando indietro chiaramente quando andiamo sulla home è il componente page home perché questo qui è una pagina un po' più lunga però un po' più lunga qual è il vantaggio di dover lavorare con cose complesse cioè che le puoi spezzettare in parti più semplici quindi anche qui in company with load uso stencil head che è una mia utility per definire gli attributi per il SEO di questa pagina anche qui c'è la pagina di article che l'ho spezzata in quattro parti alcune sezioni le ho commentate perché non mi interessavano più poi c'è la parte finale che l'ho definita come se fosse una sidebar anche se poi visualmente non lo è e poi alla fine c'è un piccolo componentino che è quel bottone circolare vedete sul mio sito che cliccandolo semplicemente passa vi fa scrollare all'interno di questa in maniera circolare all'interno di questo elenco di di tag quindi niente di questo sito non è niente di complesso l'ho voluto utilizzare per testare essenzialmente poi il pre-rendering di stencil e questo è uno dei pochi componenti che viene reidratato infatti c'è una cosa molto importante da dire che il pre-rendering non funziona con internet explorer 11 cioè il sito viene visualizzato con internet explorer 11 quindi dalla parte html però poi questo componente non ha funzionato effettivamente poi sono andato a vedere nei vari bug sugli issue di stencil e c'è questa questione aperta che se fai un sito in pre-rendering con i 11 poi anche con i polyfill l'idratazione non funziona bene ecco fortunatamente il target del mio il target del mio sito non è internet explorer 11 ovviamente se utilizzi web components o fai una web app tradizionale con internet explorer 11 funziona quindi questo parliamo solo del problema sulla reidratazione metatags ok per attivare tutto questo una volta voi create i vostri create qui i vostri componenti c'è da mettere mano stensi punto config punto ts e pre-render config js stensi config ts è il file di configurazione di distensi quindi default parte già che è buono per creare una libreria di componenti se volete invece creare un sito statico dovete cambiare due cosette in output targets dovete andare a definire che il tipo è www poi c'è base ur ma non è obbligatorio e poi ho qui che ho fatto ho aggiunto l'attributo copy perché c'è una directory public che voglio che questi file vengano copiati quando si fa la build tutta una serie di file che mi servono sul server quindi nella public ho l'htaccess i vari icone i vari file per attivare i vari social i vari servizi una custom sitemap e un custom robots txt infatti ho dovuto usare pre-render config che è questo qui non è molto documentato me lo sono andato a beccare qui dentro come si poteva fare perché io ho voluto stoppare stencil da generarvi il robot xd e la sitemap questo perché su siti più complessi ho bisogno di poter gestire la robots la sitemap a modo mio e qui in questo modo sono riuscito a evitare che stencil si impicciasse dei fatti che non gli interessano poi c'era un altro problema che quando fai pre-rendering praticamente lui parte dall'app root e mappa tutti gli url che sono raggiungibili non essendoci nessun link all'url grazie perché questo grazie arriva solo tramite newsletter bisogna poi aggiungere entry urls qui tutte le url che non sono direttamente raggiungibili altrimenti lui poi nella directory quando fa dei build non ve le va a creare se non avesse aggiunto questa voce qui non mi avrebbe creato grazie index.html ovviamente se ci vai con in fase di renderazione quella url funziona anche se non è pre-renderizzata quindi questo è un punto che secondo me deve essere chiarito se volete fare questo tipo di se volete usarlo diciamo anche per fare siti statici ecco certo ovviamente non nasce per fare sostituire vari tool dedicati a queste cose qui ok poi una cosa importante sempre extensive configs è il discorso di poter aggiungere una serie di plug-in quindi qua per usare scss bisogna aggiungere stencil sass stessa cosa per aggiungere post css con autoprefixer poi ho aggiunto un plug-in per fare line automatico di svg e così via quindi in plug-in poi ci sono le varie istruzioni su come si impostano l'ultima cosa da sapere è la libreria del css potete usare bootstrap quello che vi pare in pratica però poi siccome qua parliamo di variabili css3 variabili sass tutte tutte queste vanno date in pasto ad ogni componente quindi c'è la possibilità di iniettare un file scss con tutte queste variabili siccome io in questo caso qui ho utilizzato una mia libreria sass per le griglie e per tutte queste altre componentistica poi in questo file non faccio nient'altro che andare a passare ad ogni componente tutte le variabili che utilizzo e mix in altre cose che possono essere utili a quel determinato componente questo perché se in alcuni componenti ho fatto casino ho acceso lo shadow dom chiaramente perché vi ricordo questo è un fatto per essere un progetto di produzione è un progetto per testare varie cose quindi è giusto che sia pasticciato che ci siano delle cose accese nel modo giusto nel modo sbagliato perché questo poi mi consente di capire i problemi che poi si hanno quando vado a testare su progetti neri questa tecnologia qui quindi direi che con il pre-rendering e il discorso dei siti statici ho concluso prima di passare a PWA quindi io siccome lascerei spazio un po' ad altre domande allora in attesa dell'arrivo di qualche domanda te ne faccio una io al volo che mi veniva al di là di quello che si può fare mi viene così di sfuggita cosa non si può fare cioè per cosa lo sconsiglieresti beh al momento non puoi fare ssr quindi server side rendering non non è documentato bene come si fa quindi non so neanche se è fattibile o meno se ci stanno lavorando io ho molte delle informazioni che ho ricavato in queste mesi l'ho fatto l'ho fatto collegandomi in slack direttamente su canale distanzi cercando lì direttamente le risposte ai problemi anche perché comunque è uno strumento che ha un po' più di un anno e quindi sappiamo anche insomma è maturo perché comunque i risultati ci sono però su quelli di Ionic tu lo sai lavorano con un ciclo settimanale quindi la 191 funziona bene a 192 non scassano qualcosa la 193 sistemano quello dietro quindi c'è sempre qualcosina che che non va cioè tra l'altro io ho fatto un upgrade io ho fatto un upgrade oggi della PUA ho fatto e ho visto che non andava quindi ancora devo capire che cosa è successo perché c'è un bug con roll up per esempio quindi adesso farò un roll back poi dopo e sistemo vabbè come tutti i progetti diciamo piuttosto giovani eh beh purtroppo ormai qui il discorso che ormai è la norma quindi riuscire ad avere un ambiente un ambiente stabile per me è il punto numero uno devo dirti che molte delle problematiche che ho avuto nei miei in questi 5-6 anni che faccio il freelance è dovuto ai continui breaking chains delle tecnologie che lato back-end ce ne ho voti relativamente pochi però sul lato front-end vedo che è un continuo e quindi io che lavoro da solo per me diventa anche problematico ormai star dietro ad alcune situazioni ecco qui una domanda allora Fabio ci chiede sviluppo tool per clienti che ancora usano internet explorer 11 vorrei creare una libreria di componenti per tutto il team ti chiedo se vale la pena fare un test con stencil o è una battaglia già persa in partenza beh per quante anni ancora posso portare internet explorer 11 se sono dei web components io li ho testati e quelli che ho testato io funzionavano se invece vai su antoniocaldo punto it con internet explorer 11 l'idratazione sul pre-rendering con i e 11 non funziona quindi il componente resta visivo nello stato in cui viene renderizzato quando viene pubblicato quindi la domanda è un po' sì una prova secondo me va fatta perché prima o poi dovrà morire i e 11 dovranno mettere un punto un punto finale prima o poi credo che se lo augurino i molti sviluppatori eh molti cioè anche io purtroppo quando faccio le modifiche devo testarle Chrome Safari Internet Explorer 11 c'è poco da fare devo farlo anch'io però questo web è chiaramente poi su sulle app il discorso cade vuoi che ti che ti abbandono ti lascio sì dai mettere condiviamo a schermo così faccio vedere un attimo esempio delle PUA e così abbiamo finito perché vedo che mi sono allungato anche un po' troppo allora PUA chiaramente questo è un progetto in sviluppo anche questo è uno di quei progetti in cui posso azzardare anche cose non funzionanti sperimentali perché c'è un rapporto con il cliente che me lo consente e questo è uno dei pochi casi del mio lavoro che ho chiesto di poter pubblicare tutto senza e me di altre cose e mi è stato miracolosamente concesso quindi primo discorso per fare una PUA e chiaramente al volo è avere un server HTTPS pubblicare un'applicazione web che abbia un service work che si registri e ovviamente che ci deve essere file manifest e manifest JSON o manifest .webmanifest a seconda dei vari standard basta mettere il tag metatag per definirlo in index HTML la differenza rispetto a package JSON dell'altro progetto che era con vaniglia CSS quindi non aveva nessuna libreria qui la PUA quando la creo crea una PUA con Ionic quindi questa PUA è un'applicazione Ionic vera e propria però invece di usare Angular React qui ho usato soltanto stencil nudo e crudo quindi praticamente come se fosse vaniglia javascript qui dentro io mi tiro Axios perché ho preso delle chiamate HTTP fatte React e non ci hanno fatte in Axios quindi mi sono prodotto dentro Axios Day GS a posto del moment local forage per lo storage in local storage o web SQL index B e MobX come state management perché volevo provare MobX la PWA è molto semplice quindi basta fare la build con il flag di produzione avete tutti i file in www come sempre buildati poi basta fare il deploy quindi nel mio caso è semplicemente un deploy via FTP vengono copiati i file su web server e sono a posto così cosa dovete cambiare per attivare una PWA in stencil quindi in index assicuratevi che c'è 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 il tag manifest che punta al manifest json ve lo genera ve lo dovrebbe generare stencil però io magari vi consiglio sempre di crearvene uno vostro personalizzato cioè almeno così non rischiate poi se ci sono problemi andate in chrome f12 andate nella tab application se ci sono problemi con manifest ve lo dice lui stesso l'index non cambia granché anche qui ho aggiunto il tag analytics poi ho aggiunto il tag per usare one signal però one signal lo sto ancora testando perché siccome lui ha un service worker suo integrarlo con quello generato da ionic da stencil si sta rivelando non è documentato quindi ho aperto anche dei ticket ma mi hanno detto che praticamente loro non hanno idea di cosa suggerirmi quindi mi sto arraggiando io a me funziona però non ho ancora fatto delle prove affidabili funzionato un po' di volte non ho avuto problemi però è ancora un po' presto per dirlo la parte fondamentale quindi è attivare il service worker quindi stencil config resta l'output target uguale a come era prima quindi type www c'è la base sul del sito però poi il service worker invece che null ho passato a true e quindi usato il service worker di default oppure siccome io sono molto masochista ho voluto crearmi il mio service worker è basato su workbox perché ho voluto creare il mio service worker perché quando si usa ionic si fa una poa lui registra anche tutte le icone e sono migliaio di file quindi quando parte il service worker a cashare a meno che ionic4 se non fate attenzione vi tira dentro prima che sia pronta per essere installata l'applicazione devi tenere dentro 1400 file o giù di lì quindi è quello che sempre faccio è escludere le icone da pre-caching del service worker e fargli indicizzare manualmente soltanto quelle che mi servono le altre con un altro tipo di di pattern anche qui è lo stesso configurazione che ho usato nell'altro progetto quindi c'è una directory public che mi serve per copiare dei file direttamente nella directory di build quindi anche qui in htaccess un file della privacy statico e il service worker che mi mi ha fornito one signal questo polo integro nel mio custom service worker quindi se voi non usate one signal qui mettete true e siete a posto molto semplice altrimenti adesso vi faccio vedere il casino che ho fatto un po' io per integrarlo quindi ho dovuto escludere questi file altrimenti me li avrebbe messi nel precaching il mio service worker customizzato lo dichiaro tramite svsrc quindi è questo qui mi importo lo script di one signal poi importo lo script di workbox bisogna fare attenzione lanciare npmls workbox build per beccare la versione giusta qui quella che state usando usando voi quindi ho aggiunto il supporto per fargli usare google analytics anche offline questo mi serve per gestire l'aggiornamento dell'applicazione tramite una dialogue e poi per quanto riguarda gli asset grafici quindi nella directory asset dove ci sono le immagini foto jpeg png usate all'interno dell'app sia per quanto riguarda anche le build le build sono tutte svg con le icone del bottone di ionic ho preferito usare una strategia creando una cache dedicata e l'opzione stale wire validate cioè quindi quando l'applicazione parte vi fornirà sempre l'immagine vecchia che c'è in cache poi in background se c'è rete connessione di rete andrà ad aggiornare questo perché voglio quando la pva parte non mi carichi 1500 file ma soltanto il nucleo minimo indispensabile per potersi aggiornare che se poi manca qualche immagine o la versione vecchia dell'immagine non è un grosso problema perché tutte le pva che ho realizzato finora con ionic e chiaramente c'è sempre questo grosso lo ribadisce questo grosso problema che hai un centinaio di file javascript css mentre poi ti ritrovi con 1500 immagini quindi questo lo vedete qui nella directory build io ho asset c'è un po' una quarantina di immagini però poi in svg qui sono migliaio poi ho aggiunto anche una gestione per cache urle esterne in questo caso i font di google questi settaggi qui sono consigliati sulla pagina di workbox non mi sono inventato nulla di trascendentale io e questa è invece la parte finale dove poi lui compila quando compila il programma inserisce tutte le url quindi se vado ad aprire il service worker compilato mi ritrovo il mio sorgente però poi quando arrivo a quella riga qui lui inizia a mettere tutti i file che che vengono inclusi nella build quindi mi prende anche privacy che è un file statico che io ho messo tramite il copy quindi qui sono tutti i file javascript non ci sono non ci sono molti css perché poi essendo web components lui molti li mette in line tramite il tramite il javascript stesso ok e tornando all'index anche questo index è costituito da un componente principale che si chiama uproot il mio componente uproot è uguale a quello del mio sito web chiaramente c'è un ecostruttore faccio un po' di inizializzazione quindi aggancio l'error handler di javascript a google tag quindi se mi arriva un errore mi viene sparato un evento con in google analytics configuro il locale di djs in italiano questo mi serve per connettermi con mobex e chiaramente sto usando ionic quindi ho tutta una serie di componenti che iniziano con ion quindi c'è ion app con dentro ion router con tutte le url statiche ogni url statiche punta un componente che io ho prefissato con page e e poi ho un menu che mi compare soltanto in determinate occasioni quindi a seconda della url qui mi viene caricato in src components i componenti che qui in questo caso ho strutturato per esempio tutti i componenti di pagina li ho messi in una directory page e tutti i componenti condivisi li ho creato in una directory parts in questo caso l'home page è un home page classica di ionic con ion header ion content ion footer siccome la header è sempre la stessa e mi sono inventato un componente e qui in questo componente non c'è il trattino perché non è un web component è un componente funzionale quindi essendo ionic la parte principale dell'app si chiama diciamo il nucleo principale visualizzato va sotto ion content questo semplicemente nella home visualizza un'immagine e poi nel footer c'è la toolbar con un bottone che clicca inizia da qui quando clicca semplicemente prende il componente main menu e lo apre quindi molto semplice questo è il caso magari faccio vedere è un componente funzionale quindi invece di utilizzare la sintastica dei curatori utilizza quest'altra proprietà che è molto simile a quello che si può fare anche in react e dove semplicemente quello che ritorna è come se fosse la funzione render quindi per evitare ogni volta di andare a crearmi in ogni pagina scopia e incolla di questo mi sono creato un componente funzionale che praticamente metti bottone back bottone menu e poi se c'è un titolo passato come proprietà lo visualizza altrimenti utilizza il titolo standard dell'app e per concludere l'ultima cosa anche qui vengono inclusi due globalmente due file un file scss e un file typescript il file scss chiaramente è il file con tutte le variabili di ionic più in root c'è tutta la personalizzazione grafica che ho creato quindi oltre a cambiare i vari colori dei vari elementi in base al nome poi ho dovuto personalizzare di molto anche i vari componenti in questo caso tu puoi agire su su componente stesso tramite css però se un componente include a sua volta all'interno qualcos'altro non ci si può andare direttamente con il css bisogna andare con le variabili css3 se le esporta l'ottima cosa appts perché c'è un ts script globale perché a ogni componente gli devo andare a dire passare la configurazione di ionic in questo caso imposto la modalità md che vuol dire forza un'applicazione con stile material quella utilizzata da android anche per ios e altre piattaforme quindi escludo completamente quello che è il foglio di stile per ios e utilizzo un foglio di stile unico per evitare di dover creare o dover adattare le due diverse versioni dell'applicazione perché ionic su android i componenti compaiono in un modo materia mentre in ios di default compaiono con uno stile che ricorda molto quello di default i widget di sistema di ios questo ho visto una cosa che disorienta la mia tipologia di utenti e quindi io parto sempre da quello più semplice con meno meno raffinato che quello materia più flat e poi vado a personalizzare quello lì e l'ultima cosa poi questo è proprio quella che è forse anche la più importante che quando fate poi una pwa dovete fare attenzione che il service worker o i service worker non vengono cashati da browser quindi il server web li deve servire con i tag appropriati affinché non vengono cashati e poi io chiaramente qui ho aggiunto togli il prefisso www forza ssl ma la cosa più importante è che ci deve essere redirect su index.html nel senso che quando io navigo su slash home mi deve rediriggere index.html che è la pagina principale della web altrimenti non mi funziona tutto il routing quando lo vado a pubblicare ecco quindi questo chiaramente è un htaccess per apaci poi ci sono se usate file base hosting o c'è un file di configurazione apposta che c'è tutta la documentazione anche in file base di come si fa ecco l'argomento questo chiaramente è un po' complesso e lungo ho cercato di essere veloce spero non troppo mi dispiace che non pude fare live coding o farvi vederlo funzionante però secondo me rischiavo che stavamo qui due o tre ore ecco poi c'è il mio mestiere fare i programmi non fare le live quindi magari scusatemi se non sono stato velocissimo con questo se avete delle domande io ho terminato non vedo nuove domande però penso che sia stato super esplicativo almeno per quello che è la mia non competenza in materia cerchiamo di avvertire quali possono essere i principali pericoli a cui si va incontro quando poi ci si mette le mani perché vedo che spesso molte persone oggi si fanno un po' prendere troppo dall'entusiasmo su tool nuovi invece cerco sempre di fare sempre uno o due progettini piccoli o per me o per qualche cliente più piccolo prima di azzardarmi ad andare sul sul mercato ma anche per tecnologie già utilizzate cioè ho sempre per le esperienze mi ha insegnato avere un po' di team a essere cauto ecco assolutamente tristemente capisco cosa intendi no perché anche poi perché poi bisogna vedere uno che contratti ha perché se tu sei dipendente hai tutto il tempo del mondo per risolvere i problemi che puoi incontrare ma nel mio caso eventuali problematiche su quello che faccio io sono interamente a carico mio quindi meno problemi più il tool mi consente di agire rapidamente e con meno problematiche e più il tempo che io poi poi risparmio altrimenti puoi fare un preventivo per x ti ritrovi x al quadrato e poi non ti ritornano più nessun tipo di conteggio sono t'accordissimo va bene io nel mentre non vedo nuove domande va bene allora grazie a tutti e grazie Manuel per avermi fatto da moderatore oggi e grazie Need for Nerd per avermi ospitato con questa live grazie a te Antonio bocca al lupo a tutti ciao ciao